Le parti sociali regionali del Veneto nel mondo dell'artigianato hanno sottoscritto questa mattina in EBAB, alla Casa dell'Artigianato, un importante protocollo d'intesa sull'alternanza scuola-lavoro. È un protocollo che è la prima esperienza in Italia dove la Regione Veneto, le parti sociali, l'ufficio scolastico regionale, tutti concorrono a aprire le porte delle piccole imprese all'alternanza scuola-lavoro. È un obiettivo che lo Stato ha dato con una legge tre anni fa, però con questo protocollo la piccola impresa che è il tessuto imprenditoriale della Regione Veneto, con 130.000 imprese, e che stanno riagganciando in qualche modo un po' anche la ripresa, danno l'opportunità agli studenti di fare un'esperienza anche nel mondo dell'artigianato, luogo dove chiaramente l'alternanza è un po' più complicata da realizzare e quindi questo protocollo, che prevede anche la formazione dei docenti e un'introduzione alle regole della sicurezza per gli studenti che devono partecipare, agevolerà questo processo. Noi abbiamo salutato intanto con grande favore questa legge perché gli imprenditori più avveduti sanno che sui banchi di scuola c'è il loro futuro, quei ragazzi che oggi sono sui banchi di scuola saranno le maestranze del futuro e perché no anche gli imprenditori del futuro, per cui questa legge sicuramente noi l'abbiamo vista con grande positività. Dopodiché le imprese nostre sono da sempre in prima fila, abbiamo sempre avuto imprese che si sono messe a disposizione nell'ospitare dei ragazzi con il vecchio sistema che era quello dello stage. L'alternanza scuola-lavoro che vede questo anno scolastico come il secondo anno dopo l'avvio della legge è sicuramente un percorso che va affinato per tutto quel carico burocratico che è stato aggiunto. È una buona legge, ha sicuramente bisogno anche di imprenditori che siano preparati ad accogliere i ragazzi in azienda perché questi ragazzi in azienda impareranno non lavorare, ma avranno quella giusta contaminazione e impareranno cosa vuol dire essere un'impresa, cosa vuol dire essere un'impresa sia da imprenditore e sia da maestranza. Assessore Elena Donazzan ha chiuso i lavori di questa conferenza stampa di presentazione del primo accordo nazionale fatto nell'artigianato per l'alternanza scuola-lavoro. La Regione Veneto è in prima fila nell'alternanza da tempo, questo quindi è un ulteriore tassello che si aggiunge. Negli altri regioni forse è stata anche un po' contestata questa cosa della buona scuola e in realtà in Veneto è stata accolta bene anche perché è stato fatto un buon lavoro forse dalla Regione e dalle parti sociali. Direi di sì, ciascuno ha fatto il proprio dovere. Nel tempo abbiamo semplicemente riscontrato come il mondo dell'impresa tentasse, ma anche con convinzione, di avere un buon rapporto con il mondo della scuola, con il convincimento che poi le persone che vengono a lavorare all'interno del mondo dell'impresa, dell'impresa artigiana, dell'impresa industriale e dell'impresa in genere devono avere le capacità di comprendere esattamente qual è il contesto, che cos'è il mondo del lavoro realmente al di là delle competenze specifiche che riguardano il mestiere. E quindi competenze trasversali si imparano a scuola, tra scuola e lavoro. L'alternanza a questo significa principalmente, l'ha capito il mondo della scuola, docenti tra i più sensibili erano già ben strutturati e già avevano iniziato percorsi di questo genere e oggi li abbiamo messi a sistema. Ed è anche vero che mentre in altre regioni qualche gruppo studentesco ha lamentato tentando di dire che si trattava di una forma strisciante di sfruttamento, qui invece non c'è stato. Prova ne sia che oggi affermare questo importante accordo tra mondo dell'artigianato nelle sue sigle e il mondo del lavoro c'erano i sindacati, i tre sindicati maggiori. La regione c'è sempre stata, noi riteniamo che i risultati che noi stiamo avendo di abbattimento della dispersione scolastica e di buon inserimento nel mondo del lavoro passino anche attraverso l'alternanza. Lei ha detto che bisogna fare il conto che nel Veneto piccole imprese ci sono e quindi siccome hanno più difficoltà da accogliere c'è bisogno che Regione Veneto, l'ufficio scolastico regionale e comunque le istituzioni dirano una mano perché ci sono anche degli scogli da superare e la piccola impresa chiaramente ha più difficoltà. Certamente, è più facile fare un accordo con una grande impresa, tanto che i primi protocolli siglati dal Ministero sono stati con i grandi colossi, ma è facile, il grande colosso ha il direttore delle risorse umane, ha tutti i reparti strutturati e se anche ci sono degli elementi che intervengono per piccoli periodi di tempo questo non comporta un grande disagio. Altra cosa è invece il mondo della piccola impresa, dove è una struttura molto flessibile, molto resiliente, dove tutti sanno fare un po' di qualche cosa e che però regge, ed è questo il nostro Veneto. È un Veneto che sa esportare, è un Veneto che sa crescere, ma che ha una fotografia precisa. Piccole e piccolissime imprese. A queste dobbiamo dare gli strumenti, lo abbiamo fatto, anche creando delle azioni di rete finanziate dalla Regione per dare metodo a questo apprendimento, a questa tipologia tra scuola e lavoro. E ho sfidato un po' oggi dicendo che facciamo fare alternanza scuola-lavoro agli studenti, mi piacerebbe fosse fatta anche dai docenti. Questo accordo con la Cigeria Cirle Will, grazie anche alle relazioni sindacali buone che ci sono dentro l'ente bilaterale, aiuta certamente le piccole imprese a offrirsi su questo mercato. Allora, per noi questo accordo è un grande punto di svolta, nel senso che da sempre la Confederazione Nazionale dell'Artigianato è a favore dell'introduzione degli studenti nel mondo dell'impresa. Il mondo dell'impresa vede con favore questo accordo, perché è indispensabile puntare sulle nuove generazioni, proprio per un rifiuto al concetto che le teste migliori se ne vadano a questo paese, noi dobbiamo investire la grande per portare a casa tutte le sinergie possibili tra impresa e scuola che favoriscono l'introduzione di nuovi cervelli altamente qualificati all'interno delle nostre imprese. Diciamo che la capacità delle rappresentanze degli artigiani e dei lavoratori in Veneto che hanno costituito EBAV 30 anni fa permettono oggi di dare un supporto concreto ed efficace alle piccole imprese che vogliono offrire un percorso di alternanza ai ragazzi. La nostra scommessa è partita dal fatto che l'alternanza scuola-lavoro, che riteniamo fondamentale per avvicinare il lavoro alla scuola, non può fondarsi solo sulle grandi imprese ma deve proprio radicarsi sul tessuto di piccole e piccolissime imprese presenti nel Veneto. L'unica cosa che mi domando magari è vedere se la scuola è preparata per questo tipo di attività perché non vorrei, non vorremmo almeno, che noi dovessimo, i nostri imprenditori, sostituirci un po' anche quello che è la scuola superiore a quello che dovrebbe preparare la scuola. È un accordo innanzitutto davvero importante perché è l'unico in questo campo che tutte le parti sociali hanno concluso. Devo dire che l'alternanza scuola-lavoro innanzitutto deve essere un'esperienza formativa con una finalità didattica, non è un'esperienza di lavoro. Serve ad avvicinare i nostri studenti ad un mondo del lavoro ma deve mantenere questa finalità. Questo accordo crea le condizioni proprio per rendere le aziende artigiane più accoglienti e in grado di recepire, di accogliere, garantendo questo scopo che è fondamentale, i nostri ragazzi. Lo fa innanzitutto investendo su una figura fondamentale che è il tutor aziendale, una figura di riferimento che deve essere però preparata prima. E questo è, penso, l'elemento di qualità di questo accordo. Lo fa anche aiutando e sostenendo le imprese artigiane nella coprogettazione dei percorsi. La legge e in generale il dibattito pubblico si focalizza molto sul lato della scuola. Noi, attraverso questo accordo, creiamo le condizioni perché il tessuto produttivo, il tessuto della microimpresa così importante nel Veneto, possa essere un terreno molto positivo per sviluppare queste esperienze di crescita e permettono appunto ai nostri giovani di conoscere un mondo del lavoro e di non fare esperienze che magari si risolvano soltanto in una perdita di tempo. Ma è un accordo importante, un accordo in quanto dà la possibilità ai giovani di entrare nel mondo del lavoro attivo. Questa era una mancanza, con gli artigiani oggi siamo riusciti a fare un accordo che dà la possibilità nel prossimo futuro a migliaia di giovani che oggi purtroppo anche nel nostro Veneto lasciano il Veneto per andare in paesi europei e perdiamo risorse importanti per lo sviluppo del territorio. Il mercato del lavoro è cambiato, è cambiato dopo la crisi del 2008, è cambiato anche perché ci sono nuove esigenze e credo che questo possa aiutare moltissimo la piccola impresa artigiana.